Hai usato una telecamera? No. Meglio il cellulare? Sì. Io mi chiamo Alessandro Antonelli e io tengo 16 anni. Hai letto il cartello per i ragazzi di 16 anni? Come? Non l'hai letto? Quanti anni hai? Vengo 23. E perché stai facendo questo provento? Perché stai facendo la casa senza fare niente. Due o tre anni fa mi trovavo più 5. Ho provato a Gemini. C'è la verità. Ma perché volevi fare l'inchiesta da televisivo? Questo è un processo che fa la formica contro l'elefante. Noi siamo la formica. È stato l'elefante. Vanno a sparare e è morto. Vado qui. Vado qui. Vado qui. Vuoi che mi la faccio? Tu viaggia fino a tre anni a te. E perché tu viaggia? Perché tu è lo mato qua. Sono taste il boss. E tu fossi il boss? Si. Ma secondo te? Ma così, nel quartiere è ricco, se potessimo vieni ad abitare? No, ovvio è possibile. E' un po' di Gaieti che continui a fare un bambino sempre. Non d'avecci anni.